Tapiro d'oro alla bellissima e simpatica Maria Elena Boschi, che come penso ben sapete fu uno dei ministri di un governo del passato, va bene? E il buon Mario Staffelli ha deciso di consegnare alla bellissima Maria Elena Boschi un simpatico Tapiro d'oro. Per quale motivo, per quale ragione vi starete giustamente chiedendo perché in questo nuovo governo, il governo chiamato governo Draghi, presieduto da Mario Draghi, personaggio di spicco del mondo dell'economia italiana, proprio la Boschi è rimasta senza una poltrona, cioè è rimasta senza occupare un posto o come ministro o come aiutante o come membro della politica e o quindi del team del nuovo governo presieduto da Mario Draghi. Ok? E così il simpatico Valerio Staffelli va a consegnare questo piacevole Tapiro d'oro proprio a lei, a Maria Elena Boschi, e accetta di buon grado questo ambito premio Maria Elena, con tanto di mascherina al volto di colore nero, e lo fa proprio. Vi ricordo che questo è il secondo Tapiro che arriva proprio a Maria Elena Boschi, già in passato infatti arrivò il primo Tapiro della carriera, questo invece si tratta del secondo, ripeto, del secondo simpatico Tapiro d'oro proprio a Maria Elena Boschi. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, cari esimi utenti di YouTube. Il video termina qua, iscrivetevi, mi raccomando, se vi va, commentate. Un cordiale salutone a voi e al prossimo video da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia. Grazie e al prossimo video.